Allora, da domani. Come le è venuta la passione? Dunque, la passione, io facevo il petrogliere. L'origine di serra. Il petrogliere è pentito. No, 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 il petrogliere è andato a male. Ah, ok. Allora, però dopo avevo sempre un animo, va bene, la passione per le piante, perché a casa mia lavoravano, mia madre, insomma, aveva già, quindi come ho risentito, prendivano praticamente tutti i valori da parte di mia madre. E poi... Soluzione alcolica viene messo. Sempre l'aglio è a 60%. Allora, mi smiffo la droga aglio. Orchia miseria. È fortissima. È fortissima. Fortissima. C'è un modo di dire, anzi c'è un concetto... Ah, bellissimo. Ecco, questo, allora... Salve signora. È la signora Erbolista. No, è il signor Erbolista, è la signora. No, 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 no. È la signora Erbolista marca questa...